Sono più io che magari più che dare un consiglio ho bisogno di scoprire che ragazzi ho un genitore magari per i più piccolini perché per me è stato così, ecco sotto questo punto di vista ho avuto allenatori che per me sono stati magari una seconda famiglia e quindi questo è quello che mi piacerebbe più che altro portare. Ciao